Parigi ha aperto ufficialmente i giochi olimpici del 2024 con una grande celebrazione della cultura e della diversità francese. Più di 300.000 persone hanno guardato le imbarcazioni delle 205 delegazioni sfilare lungo la Senna sotto la forte pioggia. L'evento si è svolto senza problemi nonostante i diversi incendi appiccati alla rete ferroviaria ad alta velocità francese. La cerimonia ha visto la partecipazione di star internazionali e importanti personalità politiche. Grazie.